Per lui scrivere poesie è un'esigenza dell'anima. Salvatore Vella dà voce alle sue emozioni, al suo passato, segnato dalla perdita della madre, ma anche al suo presente, dove la sua anima trova conforto quando scrive versi ispirati alla natura, al mare e all'amore. Il poeta rivela il suo talento nella Danza del Vento, pubblicato da Edizioni Lazzisa, presentato alla Reale Cantina Borbonica in collaborazione con l'associazione Mille e una Nota. Verso dopo verso c'è nell'opera di Vella un insieme di emozioni che si liberano nell'aria come agitate dal vento, ma che si muovono con l'armonia e la grazia di una danza. Perché questo titolo? Perché è questo vento che fluttua all'interno dei pensieri, questo vento che mi porta a volare in alto, verso un cielo limpido e chiaro, dove finalmente posso trovare i miei spazi e la mia libertà. L'acqua, come il mare, è l'elemento ricorrente nei suoi versi. L'acqua è l'emblema della vita, quindi è sinonimo di madre, quindi l'acqua per me è importantissima. Perché è importante la poesia per te? La poesia è importante per me perché ti liberi l'animo, ti fa dimenticare tutto, viaggi in un'altra dimensione, in un altro spazio. Che cosa ispira le tue poesie? Il mare, sono innamoratissimo del mare, il mare, il vento e la natura in sé comunque. Ovviamente anche l'amore, il sentimento, l'emozione. Bella scrive poesie da 30 anni, finora è arrivata a quota 526. Alcune sono contenute nella danza del vento, altre le pubblicherà più avanti. Il poeta ha vinto nel 2000 un premio della critica per la poesia Questo silenzio, scritta per la madre scomparsa, cui l'autore era particolarmente legato. Sono legato alle poesie dedicate ovviamente a mia madre che è scomparsa prematuramente, poiché è affetta dal morbo di Alzheimer. Quindi ho dedicato alcune poesie come Alla mia mamma o Questo silenzio o Piume di pioggia. La danza del vento è piaciuto a Francesco Billeci, scrittore noir e poeta che sul collega dice È un grande poeta, io ho letto e riletto più di una volta il libro La danza del vento e devo dire che è una grande opera che rispecchia tantissimo la tradizione siciliana. Mi sono emozionato tantissimo perché lui riesce ad esternare il suo intimo e difficilmente un poeta riesce a farlo perché diciamo che queste poesie ti emozionano sin dalla lettura della prima poesia. Io tanto che mi fermavo, riflettevo e l'ho considerato un libro che rispecchia anche le quattro stagioni. Questo libro io lo posso definire malinconico come l'autunno, allegro e profumato come la primavera, caldo come l'estate e triste come l'inverno.